ciao a tutti e ben ritrovati a come ti faccio un vlog questa sera con ospite speciali paramir perché ha deciso di stare qui questa sera va bene allora facciamo una puntata assieme e allora parliamo continuiamo a parlare di consigli su come realizzare ma come gestire come condividere un un vlog con qualsiasi un contenitore una i vostri contenuti se volete diventare creatori di contenuti relativi al wargame al gioco storico al gioco in generale ma nello specifico qui parliamo di wargame gioco storico e un po i miei consigli personali su come un po instradarvi in questa bellissima avventura che ha anche le sue difficoltà e intendiamoci anche un po alcune cose da seguire che un po io stesso ho imparato e sto ancora imparando mano a mano che vado avanti quindi voglio condividere che vorrei condividere con voi incoraggiandovi e chi volesse incoraggiando chi volesse questa idea a diventare lui stesso creatore di o lei stessa creatore di contenuti relativi al gioco storico in particolare ma il gioco in quanto tale perché anche un nuovo modo un modo diverso di come dire di vivere questa nostra passione per il gioco e appunto di condividerla o condividerla condivisione in questa puntata ci focalizziamo su questo aspetto come condividere questi contenuti i contenuti che avete creato perché prima abbiamo parlato nelle puntate precedenti un po sia della teoria che poi anche della pratica di aspetto tecnico le cose di base ma adesso ok avete creato avete scelto di che cosa parlare avete fatto il vostro bel video il vostro bel podcast ma adesso dove lo pubblicate come lo condividete con gli altri ecco questo sarà un pochino l'oggetto di questa di questa puntata cominciamo dove lo pubblico dove e come pubblico il contenuto che ho creato come condivido i miei contenuti come li rendo disponibili appunto al pubblico beh ovviamente i canali sono diversi e ovviamente cambiano sulla base del contenuto che che voi stesse avete creato alcune piattaforme sono più adatti a determinati contenuti altri ci sono però ovviamente se molti contenuti possono andare contemporaneamente e lo vedremo su più piattaforme comunque sia vediamo un po' i canali principali le piattaforme principali beh sicuramente per quello che mi riguarda è la mia esperienza principale è youtube faccio video e quindi li metto su youtube youtube in realtà qui nei miei appunti io spiega come si fa pubblicare un video su youtube non entro troppo è tecnico ma banalmente semplicissimo perché avete il più vicino crea video vi dice caricate il file del video ci mettete la vostra la vostra bella copertina se sono più video ci potete mettere delle schede finali per questo vi lascio tutti i vari tutorial contro tutorial che sicuramente trovate in giro però ecco diciamo è veramente molto molto semplice non è assolutamente niente di complicato vi fate il vostro account su youtube e poi caricate i video che volete andiamo un pochino alle cose specifiche relative al gioco per esempio non tutti sanno che sembra la settimana enigmistica ma è così non tutti sanno che borgen geek ha realizzato un sistema di autolink di link automatico andate a cercare autolink borgen geek in pratica dovete solo mettere dei tag specifici e inserire nella descrizione del video il link alla scheda bgg del gioco di cui state parlando prima però dovete mandare una mail a borgen geek trovate tutte quante le istruzioni lì su borgen geek e appunto in automatico ogni volta che voi metterete un video su quel gioco comparirà automaticamente nella pagina il gioco lo caricherà comodo eh altrimenti lo potete fare anche in manuale non c'è nessun problema eh di sempre col vostro account borgen geek andate lì e dite borgen geek guarda ho pubblicato un gioco su point blank collegami il gioco su questo e gli date il link e questo è il video e lui lo fa però con questo sistema di autolink è semplicemente nel momento in cui voi lo pubblicate automaticamente arriva a borgen geek quindi voi non dovete fare nulla è comodissimo soprattutto se come me fate video in maniera seriale infatti io adesso piano piano qualcuno si sarà accorto che sto rilincando tutti quanti vecchi video che c'erano prima di questo sistema perché veramente è utilissimo avere appunto anche una pubblicazione su borgen geek e anche questa è una prima forma di condivisione eh anche al di fuori della singola piattaforma eh poi altri consigli eh su come pubblicarli se fate questa è una cosa che forse vi ho già detto se vedete che le puntate magari uno speciale su un gioco è particolarmente lungo 40 50 60 minuti anche più di un'ora non fate non mettete il bloccone l'unica mega puntata da 90 minuti io lo facevo all'inizio del del canal però mi mi sono reso conto che sono eh complicatissime cioè da anche da vedere anche uno si deve mettere lì tuttavia tutta una serata magari spezzettato lo fatelo a più puntate così anche più facce magari più tematiche faccio un esempio un'introduzione la parte sul tavolo e la parte delle conclusioni poi per gli amici non lo sassoni anche eh che o comunque sia internazionali che parlano l'inglese eh la parte con sintesi in inglese benissimo ma sono tutte quante tot mini puntate da 30 40 5 minuti al massimo per il playthrough e cose per la parte sul tavolo però ecco insomma e sono delle dimensioni molto più gestibili anche psicologicamente ci potete mettere pure i timestamp cioè gli stampini quello che per esempio trovate nei video che metto sui gioco quando tu quanti divisi con i vari segmenti ti interessa l'introduzione vai qui ti interessa vedere il playthrough vai al minuto 20 e c'è scritto clicchi lì arrivi direttamente minuto 20 proprio 20 10 secondi minuto 20 10 secondi arriva e parte il playthrough quindi anche questo è molto molto utile parliamo di timestamp e quindi mi viene da parlare anche di un'altra grande strumento qui da youtube che è quello della programmazione non è che io carico il video e deve essere subito fuori no calma tranquilli io per esempio molto spesso carico il mio canale il video che faccio nel fine settimana non è che ve li trovate tutti lundi mattina ve li trovate martedì giovedì venerdì anche con una cadenza perché io li carico su youtube e dico ok però questo me lo programmi giovedì questo uscirà martedì a quest'ora trovate le fasce orare che preferite e verrà pubblicato a quell'ora lì questo vi aiuta non solo a gestire il carico di lavoro perché potete tranquillamente amministrarvelo anche quando c'è tempo libero magari fate più video in sequenza e poi li fate uscire scaglionati più in là li pubblicate gli dite appunto di pubblicarli più in là ma anche per creare una regolarità nel vostro nella vostra produzione di contenuti non ha senso che produciate dieci video in cinque giorni poi per un mese state in silenzio completo perché vi perdete e vi perdete ovviamente utenti questo tranne proprio io per anche qui anche quelle cadenzate avete i momenti di pausa noi sapete chi seguì il canale sa che a natale e ad agosto per due settimane prima per un mese dopo non esce nulla sul blog ma voi lo sapete perché è cadenzato io stesso vi dico ragazzi io vado in pausa ci vediamo a settembre o ci vediamo dopo le feste di natale ok quindi la cadenza una cadenza precisa è utilissima anche un piccolo trucchetto che ho fatto anche all'inizio prima di cominciare col canale è che ok c'è un video lo butto lì sul canale ciao ne ho fatti diversi cioè prima di cominciare sul canale io ne avevo già filmati 45 ecco prima di allora anche prima di pubblicizzarlo perché volevo che quando la gente fosse arrivata sul canale vedesse che c'era già un tot di contenuti non un video solo e poi boh chi lo sa ma magari questo non continua no no che ci fossero già cinque o sei video beh ok allora una cosa un pochino più strutturata allora ci si sta dedicando è un messaggio che voi lanciate a chi guarda i vostri contenuti e attenzione riguarda i vostri contenuti ovviamente non vi paga in moneta ma vi paga in una moneta molto più di gran valore di valore molto maggiore rispetto al denaro con il suo tempo con la sua attenzione potrebbe fare altro e quindi dovete un po curare questi aspetti ed entrare un po in il rapporto in rapporto con lui poi altra cosa ovviamente youtube mi permette tramite sistemi che possono essere stream yard che quello che uso io o restrimo tanti altri di fare delle live però l'argomento delle live poi magari ne parliamo in un'altra puntata dedicata però sappiate che potete fare invece il contrario del concettuale dei dei video programmati i video in diretta automaticamente collegati a youtube e appunto questi video però vengono pubblicati su youtube ma anche su altre piattaforme adesso devo parlare di altre piattaforme una delle piattaforme qui che la piattaforma regina per il contenuto in diretta è ovviamente twitch e qui mi direte ma youtube o twitch qual è meglio ognuna delle due i suoi vantaggi e svantaggi perché perché twitch appunto è il regno delle dirette vi dà una visibilità immediata twitch io ci riflettevo proprio mentre sta un po preparando questo video una delle sue particolarità è che twitch vi dà l'impressione di non essere mai soli cioè io vado su twitch e vengo subito bombardato da 5 o 6 video proprio nella scaletta sopra che sono già in movimento con i quali io posso già entrare in relazione mi stanno già parlando ok questo youtube non ce l'ha perché quando comincia youtube fisso e statico mi dà dei consigli però devo andare a vedere questi video che sono già registrati non sono tutte dirette mentre invece tutti sono tutte diretti e quindi wow sono già dentro gli ea e quindi c'è questo molto senso questo senso c'è molto questo senso di coinvolgimento diretto immediato e anche di questa estremamente reazione perché qui ci vive moltissimo dell'interazione tra chi sta facendo la diretta e il pubblico che lo vede anche con un po tutti quelli che io chiamo un po trucchi e trucchettini gli effettini sonori i disegnetti le animazioni e un nuovo iscritto tutti quanti questi che dopo un po fanno venire un po di mal di testa però vabbè a parte questo c'è c'è molto questo questo aspetto il problema di twitch è che non c'è un pochino troppo questo aspetto è un pochino troppo frenetico e ha una cosa dopo un po le dirette i contenuti su twitch vengono cancellati non le vedete più dopo un tot di giorni tranne mi pare se uno ha un account pagato particolare eccetera quindi youtube invece resta tutto la particolare di youtube è che resta tutto questo video che sto girando probabilmente anzi sicuramente tra dieci anni sarà ancora sulla piattaforma youtube se lo facessi su twitch in diretta per farlo serve anche un più interattivo con voi parleremo immediatamente probabilmente li faremo anche questo magari anche appoggiandoci al server di ludostory adesso vediamo un pochino come però 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 dopo dieci giorni dopo due settimane non ci sarebbe più vedete anche farmi si dispiace di questo ci si lavora tanto e poi dopo eh sì 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 lo so infatti infatti farmi è più tipo un po sanato tranquillo c'è più da youtube quindi questo è quello che riguarda twitch quindi dovete un pochino capire però ecco per esempio una diretta con streamer streamer della manda automaticamente sia a youtube che a twitch poi sulla base del dell'account che avete grati sul pagamento della formula che scegliete insomma tutte queste tutte queste cose altra grande piattaforma inutile negare facebook facebook che vi permette per esempio anche di in parte almeno ospitare dei video soprattutto se si tratta di dirette ma facebook è ottimo come rilancio ma anche come appunto discussione e su facebook ci sono i gruppi i gruppi per esempio dedicati al war game al gioco storico mi viene in mente i gruppi dedicati al gioco in generale giochi da tavola società giochi da tavola eccetera eccetera oppure anche di nuovo siamo lì ludostoria che è il gruppo dedicato al gioco storico in tutte le sue forme quindi e che magari può essere anche interessante per voi pubblicizzare i vostri contenuti su ludostorie siamo assolutamente apertissimi e felicissimi di ospitare i rilanci di tutti i creatori di contenuti su giochi storici su giochi di simulazione storici di ogni forma e misura e appunto quello può essere utile anche perché non è su di un singolo genere ma è su più generi ludici in assoluto quando siete un creatore di contenuti su giochi di ruolo ambientati e di giochi di ruolo e fate dei contenuti su un gioco di ruolo ambientato durante la seconda guerra mondiale pubblicizzatelo tranquillamente su ludostoria ma anche su tutti quanti vari altri gruppi e ovviamente potete tranquillamente pubblicizzarlo su vari gruppi o poi ecco una cosa facebook vi permette anche di avere una pagina personale una pagina autore come fosse una pagina autore come fanno gli scrittori e voi è una scrittrice una pagina autore su facebook una pagina autrice io ho una pagina autore mia di vlog la pagina di vlog razioludica quindi ottime occasioni di rilancio però facebook va più sul rilancio che è un po' lo secondo segmento di cui parliamo in questa puntata e poi ancora ancora podcast podcast un'altra piattaforma sono diverse piattaforme di podcast le due più importanti almeno a mio parere sono speaker e podbin io utilizzo podbin perché non è in diretta mi piace un pochino più il sistema degli account a pagamento perché me lo mantiene per più tempo eccetera ma speaker invece ha della sua che sono in realtà delle dirette quindi c'è un rapporto qui parlate parlate in diretta quindi c'è magari anche il pubblico potete anche interagire direttamente con il pubblico durante la trammissione e rimane però ecco a differenza di twitch rimane sia speaker che podbin manderanno il vostro podcast sulle piattaforme come ios podcast spotify google podcast eccetera questo ovviamente studiate la singola piattaforma come lo fa infine ultimo punto dove potete pubblicare i vostri contenuti però in questo caso più per dei contenuti io direi contenuti testuali è sicuramente i siti dedicati cari vecchi blog da cui io personalmente ho cominciato razzioludi che è il nome del mio blog dedicato ai giochi ed approfondimento sui giochi quando youtube non era ancora molto popolare e allora si andava molto di testo ecco però e lì sono ottimi per gli approfondimenti io ve ne consiglio uno in particolare la via del grognano quindi di federico cartolano con interviste adesso appena uscita quella molto bella dal doghetti con approfondimenti con appunto la recensione che ha fatto alla storia di movimento gli atti del convenio del 2019 con la sisma e la federazione italiana wargame che abbiamo fatto il mio padre insomma approfondimenti ecco un sito è il punto migliore il punto migliore in cui voi potete assolutamente diffondere e pubblicare dei contenuti approfonditi sul gioco quindi recensioni approfondimenti appunto analisi interviste testuali e quant'altro non lo utilizzerei per i video peraltro forse qualcuno ve lo permette però francamente avete cose come youtube e twitch e li va molto meglio queste sono un po' le piattaforme su cui voi potete pubblicare i vostri contenuti abbiamo anche parlato prima di facebook e facebook è tanto per dirvi potete comunque anche lì mettere delle note delle recensioni potete fare delle recensioni su facebook l'emico Enrico Acerbi scusatemi l'amico Enrico Acerbi autore di inferno fa delle recensioni spettacolari sul suo gruppo che vi consiglio di seguire Valgame e Valcon bellissimo assolutamente e sono delle mini opere d'arte mi piacciono tantissimo con il suo stile un po' ironico un po' dissacrante ma molto molto bello molto interessante e quindi anche lì però questo è che appunto stiamo parlando di tutti di piattaforme dove io pubblico i miei contenuti l'altro step sono piattaforme in cui invece ricondivido i contenuti che ho pubblicato sulle prime piattaforme ho fatto un video l'ho messo su youtube ma come faccio a far sapere al mondo che ho fatto quel video che sta su youtube è che posso sì perché ora posso stare lì fermo e aspettare che uno per caso ci capiti sopra che l'algoritmo di youtube glielo segnali però magari non basta anzi sicuramente non basta devo ricondividerlo devo pubblicizzare il contenuto che ho pubblicato vedete la differenza tra pubblicare e pubblicizzare che non è una cosa brutta pubblicizzare perché noi siamo pensati alla pubblicità uno scocciatuno è una cosa commerciale no 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 la pubblicità è una cosa importante rendete ancora più noto il fatto che voi avete creato un certo contenuto su qualcosa ed è il senso perché voi create questa roba per condividere la mica per tenerla solo per voi se no non la rendereste pubblica quindi l'idea è di condividerla con più persone possibile per confrontarvi con loro, con i commenti, con le cose ecc e anche qui le stesse piattaforme che vi hanno permesso di pubblicare i contenuti spesso sono utilissimi per ricondividerli per esempio YouTube ve ne avevo parlato l'altro giorno è utilissimo fare un discorso nei commenti se voi andate a commentare un altro YouTuber non così ciao sono io, ho un canale perché non mi segui vi prego quella è una roba da bot ma lo andate a commentare su di un contenuto che lui ha creato tanto rimane la stringhetta magari lo conoscete e magari lo spettatore è incognito ma chi è questo tizio che gli ha fatto questo bel commento fammi vedere ah ma ha un canale anche lui ah però poi ci sono delle piattaforme di aggregatori su YouTube la più famosa di tutte internazionale mitica del mitico Dan Pancaldi grandissimo amico Noelle Misere vi assicuro assolutamente vi consiglio di andarla a vedere di segnarvi perché ogni settimana fa una rassegna di molti creatori di contenuti quindi molto molto importante quindi questo con tutti quanti i link così avete una panoramica e andate a conoscere anche altri creatori di contenuti in Italia qualcosa del genere lo abbiamo creato con Scipione che vedete tutti quanti veri Scipione news che trovate sul canale è un server Discord che se vi iscrivete come creatore di contenuti avrete il vostro spazio e questo server automaticamente manderà un avviso agli spettatori agli altri giocatori che si sono sempre segnati sul server guardate che Riccardo ha appena messo un video su questa cosa l'ha appena pubblicata e anche questa è una forma di condivisione molto molto importante abbiamo parlato appunto di Facebook prima che funziona appunto sia per pubblicare le vostre recensioni le vostre note ma per andare a che lei possiate condividere su altri gruppi di appassionati Uno Storia Casos Belli Valgame Valcon Giochi da tavola non chiudetevi soltanto nei siti dedicati al gioco storico anche lo stesso contenuto ovviamente rispettando le policy dei diversi gruppi dove lo andate a pubblicare può essere ripubblicato su diversi gruppi quindi raggiungere un pubblico molto più ampio potete anche per esempio è un'altra cosa che ho fatto mettervi d'accordo con i siti specializzati nel mio caso è stato Geek Pizza che mi ha offerto questa possibilità di avere un vostro spazio in cui voi rilanciate il vostro contenuto sul sito fate il video e poi ci fate un articoletto e lo mettete su Geek Pizza la stessa cosa che per esempio anche il sito di TGCom24 mi ha chiesto di fare ma lì mi ha chiesto proprio di fare dei contenuti periodici specifici e adesso appunto con la storia sul tavolo adesso anche io gioco gli amici di io gioco con grandi manovre ma quello è un passo successivo però anche lì è un modo per raggiungere un pubblico più ampio e ovviamente mettete in quel caso video anche su TGCom si vede il video fatto a Riccardo Masini che ha il canale vlog e che c'è il link a vlog e la gente va a vedersi anche tutto il resto della vostra produzione dovete lavorare su più piattaforme e su più strade contemporaneamente e poi ci sono anche altri lo stesso YouTube scusate mi continuo lo stesso YouTube certo lì una volta che sarete grossi abbastanza grossi una volta che avete superato i mille iscritti una cosa che ho scoperto non sapevo oggettivamente non appena ho superato i mille iscritti al canale è partita la scheda community che è un modo per entrare in contatto con la community quindi una chat continua dove fare altri rilanci e anche quello è utilissimo poi ci sono altre possibilità c'è il grande mondo di Instagram a quale io sono un pochino allergico devo dirvi la verità non lo uso tantissimo forse sbaglio anzi sicuramente sbaglio però richiede molta attenzione però lì magari potete mettere dei mini video delle foto dei giochi che fate con dei link con dei rimandi ai contenuti che avete messo su di un'altra piattaforma quella è una cosa che probabilmente devo ancora bene studiare però anche lì raggiungete anche lì un pubblico più ampio anche se la comunicazione lì è immediata o un video di 30 secondi è già tanto veramente già tanto oppure una singola foto anche lì c'è molto da lavorare da calibrare e poi anche il mondo che adesso sta esplodendo delle chat Telegram ci sono diverse chat Telegram dedicate che vi permettono anche di mettere rilanci ai vostri contenuti quindi come vedete rendere pubblico il vostro contenuto lavora su due fronti da un altro la pubblicazione cioè dove e come mettete i vostri contenuti dove li fate comparire e la sua successiva pubblicizzazione cioè come li rendete noti a tutti come ne diffondete la notizia e veramente questi due aspetti devono andare d'accordo dovete calibrare i vostri contenuti la vostra pubblicizzazione dei contenuti sulla base della piattaforma che scegliete il consiglio di massima con cui vi lascio è magari state un po' su queste piattaforme per capire bene qual è il formato dei contenuti che va di più che è più seguito quindi per esempio un punto di Instagram vedete che tipo di contenuti può andare bene su Instagram e quale invece no guardate un po' Twitch per un po' di tempo allora se voglio sbarcare su Twitch devo calibrare così il mio contenuto attenzione calibrare non modificare non è che dovete adattare in tutto e per tutto non è che dovete fare le cose uguali agli altri mai assolutamente lo siamo sempre detto però ci sono ovviamente dei registri dei parametri che devono essere considerati non potete fare un video registrato anche se tecnicamente lo potete mettere ma poi scompare su Twitch di tre ore pace perché non è il modo di utilizzare Twitch perché non funziona così perché appunto funziona sulla base di altri di altri parametri e questo vale per tutte 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 le piattaforme di comunicazione l'abilità sta nel far passare il vostro contenuto il vostro stile personale anche cambiando il registro cambiando il contenitore si cambia il contenitore ma non si cambia il contenuto vi lascio con quest'ultima con quest'ultima impressione con quest'ultima suggestione diciamo così quindi questi sono i miei consigli come sempre parliamolo nei commenti confrontiamoci fatemi sapere o fatemi sapere anche questa serie magari metterò ecco un'altra cosa sondaggi c'è la scheda community di youtube dovete fare dei sondaggi vorrei fare un sondaggino su che cosa volete di che cosa volete che parli nelle prossime puntate di come come ti faccio un vlog ovviamente ce l'ho già scritto però vorrei avere un po' la vostra idea magari anche per quelle future ma anche per quelle dopo rispetto a quelle che ho già programmato o su quali sono gli aspetti che vi interessano di più aspetto la vostre il vostro feedback e la vostra comunicazione perché come sempre la comunicazione è sempre bidirezionale quindi assolutamente fondamentale assolutamente fondamentale io vi saluto vi auguro buon divertimento ci vediamo alla prossima puntata di come ti faccio un vlog ma in generale ai prossimi contenuti su vlog e sulle altre piattaforme perché ovviamente potete fare anche contenuti contemporaneamente su più piattaforme e vi saluto ci vediamo presto e a presto per la prossima puntata di come ti faccio un vlog ciao